Ciao sono Valentino di Kraken Store, in questo video vedremo i nuovi goo di Chiana Carp distribuiti da Corda appena arrivati e poi andremo a vedere anche le loro caratteristiche e in che maniera possiamo adoperarli nella pesca alla carpa Allora innanzitutto vediamo quali sono, c'è il Dragon Breath, quindi il respiro del drago in versione Supreme poi c'è il White Squid, esistono già dei goo al gusto, all'aroma squid, però questa versione è con il liquido bianco e poi c'è il Salami, in versione però questa Smoke Allora prima di passare a vedere i singoli goo, voglio rispondere a molte persone che mi chiedono vale ma i liquidi, i goo in particolare, funzionano? Ecco la risposta è dipende, perché non esiste un liquido che funziona e un liquido che non funziona bisogna capire in che maniera adoperarli, in quale situazione adoperarli per avere dei vantaggi sicuramente l'uso più sbagliato che ne possiamo fare è quello di utilizzarlo quando non abbiamo catture sembra un paradosso ma è così, perché nel caso in cui noi non stiamo avendo un feedback positivo dal nostro stile di pesca, dalla nostra tattica è quasi sempre inutile aggiungere un goo per pensare di poter risolvere la situazione i liquidi in generale riescono ad avere un'attrazione molto limitata all'esca e nelle vicinanze dell'esca per cui se mi trovo in una situazione in cui sono lontano dai pesci difficilmente un liquido mi porterà i pesci quindi se già ho poca fiducia in un liquido e lo vado ad operare in una situazione molto complicata in cui non ho già dei pesci questo non fa altro che scoraggiarci ancora di più e pensare che i liquidi non funzionano in realtà i liquidi hanno quella funzione di migliorare il rating di cattura quindi farci catturare qualche pesce in più per esempio nel feeder nel momento in cui abbiamo già dei pesci che si stanno alimentando oppure aumentare la trazione di un'esca che magari è poco ricca di liquidi o voglio cambiare di colore ecco che con i goo riesco ad avere questa soluzione perché ho deciso io che quella modifica possa essere una modifica positiva e risolutiva quindi di per sé il liquido non funziona devo imparare prima di tutto a conoscerli e in secondo luogo a capire la situazione in cui questi liquidi possono fare la differenza e in realtà poi la fanno ma sono differenze che sono limitate a delle percentuali molto basse per cui non ci dobbiamo aspettare la luna ma neanche possiamo pensare che siano inefficienti dobbiamo studiarli ad esempio nell'ottica dello studio quando si scelgono i goo molte persone non sanno ancora che esistono due famiglie di goo esistono, ve l'ho nominata all'inizio, i Supreme e poi ci sono la versione Smoke e la leggete sempre sulla bottiglietta e questo è molto importante perché gli Smoke sono dei liquidi molto densi, viscosi mentre i Supreme di solito più o meno sono molto più liquidi dico più o meno perché in realtà non sono proprio tutti uguali bisogna andarseli a studiare anche in quel caso e questa è la prima discriminante prima ancora dell'aroma prima ancora del colore perché questo ci dice un po' in che maniera poi questo liquido funzionerà in acqua ora io vi faccio vedere vi faccio un piccolo test ma veramente stupido però che vi fa vedere vi fa capire come si comportano quindi ho messo su un foglio ho scritto i nomi dei goo e adesso ci rivado a versare quindi il respiro del drago la versione Squid e infine il salami che il salami è un aroma mi ricorda il Frankfurter quindi la salsiccia quella molto speziata eccoli qua ora nel momento in cui io vado ad alzare il foglio vedete che ci sono le versioni Supreme che subito partono impicchiata verso il basso mentre la versione salami rimane ferma perché come vi ho detto all'inizio questa versione qui è una versione Smook quindi è una versione molto densa questa cosa è molto importante perché ad operare una versione molto liquida è una versione molto densa avrà poi in acqua degli effetti totalmente diversi quindi nel momento in cui io voglio ad operare per esempio un liquido che mi va a vrappare l'esca quindi me la va a ricoprire perché gli voglio cambiare colore gli voglio dare un'impronta anche di sapore allora ecco che la versione Smook è la versione più indicata se invece voglio che il liquido entri dentro l'esca posso pensare di ad operare invece la versione Supreme e posso anche pensare di ad operarle insieme quindi prima far assorbire l'aroma per poi vrapparlo successivamente oppure nel caso dei sacchettini posso pensare di ad operare una parte di Supreme se sto pescando in velocità quindi mi serve un'attrazione immediata una soluzione in acqua immediata oppure posso pensare di ad operare uno Smook nel momento in cui penso di lasciare questo sacchettino per tanto tempo in acqua e quindi avrò questa chiazza colorata che potrà più o meno attrarre ovviamente queste sono delle linee guida posso pensare quindi di ad operarli insieme di ad operare l'uno, di ad operare l'altro oppure di avere un approccio totalmente diverso che è un pensiero che scaturisce dal pescatore ed avere un approccio diverso perché molte volte avere approcci diversi può scaturire anche un risultato diverso per quanto riguarda abbiamo visto quindi le densità per quanto riguarda invece i colori anche qui ci sono di solito delle linee guida quindi ad operare dei colori più chiari ovviamente di notte o in situazioni di profondità e di ad operare dei colori scuri invece in prossimità del per esempio del sottoriva però anche qui posso pensare di fare un contrasto tra faccio un esempio all'interno di un sacchettino posso ad operare un pellet scuro e pensare di ad operare un liquido bianco quindi creare un contrasto oppure dare delle tonalità simili quindi tipo match to edge un pelletino rosa ed un liquido rosa insomma non c'è un elemento per cui io posso necessariamente discriminare e dire questa cosa sì va bene questa cosa no a meno che non ho dei dati che mi dicono con questa soluzione ho raggiunto maggiori risultati per quanto riguarda l'aroma meno male il discorso rimane lo stesso anche qui posso pensare di utilizzare degli aromi tipici che vengono ad operati spesso nelle acque dove pesco e quindi so che hanno già un tasso di successo oppure posso anche pensare di ad operare degli aromi particolari tipo il respiro del drago è uno speziato dove si sente tantissimo la cannella e quindi ad operare degli aromi che normalmente non vengono ad operati dagli altri pescatori e quindi magari i pesci non li associano ad un pericolo rispetto a degli aromi che invece normalmente vengono utilizzati e con cui i pesci hanno delle risposte negative per questo motivo quando abbiamo a che fare con i liquidi l'unico modo per capire se nella nostra situazione nel nostro lago e con il nostro stile di pesca funzionano o meno bisogna testarli bisogna provarli per cui il consiglio che vi do è cercate sempre di fare dei test in pesca di avere più soluzioni in modo tale che riuscite a discriminare quale tra quelli disponibili che avete ha il maggior successo nel primo commento vi lascio il link se volete prenderli e provarli grazie mille grazie mille